ciao a tutti da francesco potatore certificato oggi andiamo a parlare della potatura dell'olivo in particolar modo della potatura per andare ad eliminare le parti esaurite che è quella meno importante di tutte ma me l'avete chiesto un sacco di volte quindi oltre aver registrato un video corso una lezione nel video corso apposito quindi poi trovate tutto nella descrizione di questo video vi faccio vedere un esempio spiegandovi un po cos'è questa potatura perché si fa e via dicendo poi appunto nel tutorial preciso troverai di preciso ogni quanto farla come facciamo più esempi quindi sarà più facile comprendano premetto anche che se sei interessato a un guadagno extra di 3 4 500 euro scrivimi alla mail qua in sovraimpressione allora la potatura di chiamiamola ringiovanimento di per togliere le parti esaurite si va a effettuare sulle branche laterali quelle secondarie di solito sono le branche quelle più basse dove c'è più ombra ok in questi casi semplicemente bisogna andare a togliere le parti che rimangono più interne e che essendo ombreggiate non ricevono non ricevono luce ovviamente e si defogliano diventano improduttive in sostanza il discorso è quello ve lo sto facendo in modo più semplice possibile di soltanto si vede che tutta questa parte qua si vede bene che è tutta non è secca però è defogliata quindi essendo defogliata non produce olive e rompe un po le palle perché magari quando si va a raccogliere si incasina l'abbacchiatore quindi può essere utile fare questo tipo di potatura ogni tot anni quindi non è non è comunque fondamentale farla lo ripeto dove andiamo a fare il taglio sempre tagli di ritorno ovviamente e in questo caso andiamo ad analizzare la branca secondaria notiamo che qua si divide in due e qua abbiamo tutta una parte che scende che quindi è quella poi esaurita perché è una parte vecchia poi questo è stato un rinnovo che è nato dopo e poi qui abbiamo una parte che va verso l'alto che si incrocia con la branca che poi dobbiamo lasciare quindi in questo caso tanto vale fare direttamente un unico taglio meno tagli facciamo meglio è ovviamente quindi facciamo un unico taglio e vediamo da lontano come va via tutto 1 2 ok abbiamo lasciato molto spazio per questi rami nuovi abbiamo tolto tutto il secco poi ci sarebbe da continuare a fare cose dietro e quindi questa è questo è un esempio di eliminazione di rami esauriti non c'è tanto da dire su questo tipo di potatura si fa durante prevalentemente durante la potatura di produzione io tendenzialmente evito di farlo durante le potature di riforma perché magari da qualche ramo che sembra defogliato poi dando luce togliendo le parti alte ricaccia e quindi può essere che torni un ramo produttivo perciò è una potatura ripeto di importanza inferiore rispetto alle altre cose che ci sono da fare continuate a seguirmi iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo video ci vediamo presto ciao